Scene di panico oggi sul corso Vittorio Emanuele nel Salotto Buono di Salerno. Dopo i numerosi avvistamenti di topi sul lungomare questa estate, ora anche in pieno centro, nei pressi di Piazzetta Barracano, sono arrivati i ratti a disturbare la passeggiata dei salernitani e dei numerosi turisti che transitano lungo l'arteria pedonale della città. In cerca di cibo si nutrono dei tanti rifiuti abbandonati intorno ai cassonetti incustoditi. Una situazione di estremo degrado a cui purtroppo la città del governatore De Luca ci sta abituando in questi ultimi tempi. Qualcuno ha allertato i vigili urbani che solitamente pattugliano la zona, ma nell'attesa le commesse dei negozi si sono armate di scopa e hanno affrontato da sole gli animali che si stavano addentrando nei locali, facendo scappare la clientela. Non appena i ratti si sono intrufolati nel contenitore dei rifiuti lo hanno chiuso in fretta e poi lo hanno sigillato con lo scotch con tanto di cartello su cui c'è scritto «Attenzione, contiene topo vivo». Ma l'invasione continua e l'allarme per l'igiene e la sicurezza pubblica resta molto alto. Queste immagini documentano che la città di Salerno è sporca, una condizione che richiama inevitabilmente i topi dalle fognature in superficie. Non è la prima volta e purtroppo si teme che non sarà neanche l'ultima. Alla vigilia dell'inaugurazione di luci d'artista, la rassegna natalizia che richiama a Salerno migliaia di visitatori, ci si chiede se è questa l'immagine della città che vogliamo restituire ai turisti.